Siamo qua davanti alla prefettura di Bergamo per manifestare contro Mario Monti e la Fornero perché non è possibile noi che abbiamo 40 anni di contributi e ci manca 3-4 mesi di andare in pensione e ci allungono di due anni e più. Noi vogliamo sensibilizzare anche l'opinione pubblica su queste cose perché a noi non ci sembra veramente giusto. Io sono disoccupato, sono senza lavoro, senza pensione e probabilmente anche senza un futuro, il mio e il mio figlio. Spero proprio che qualcuno ci dà una mano, specialmente i sindacati che credono, dicono che fanno tutto per i pensionati, per gli operai e invece mi sembra che stanno facendo pochissimo. Anche i politici, il PD dov'è, il PD dov'è, il PD dov'è, il Bersani dov'è, dice, dice, dice e non fa niente. A queste cose vogliamo una risposta, vogliamo una risposta concreta, seria e che ci sostenga qualcuno. Grazie. 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 Grazie.